Sulla splendida piazza Signorelli di Cortona, dalla caratteristica forma irregolare e non pianeggiante, si affaccia il sontuoso Palazzo Casali, costruito nel XVI secolo e da sempre considerato il palazzo della cultura, e oggi sede del meraviglioso Maek, il museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, dell'Accademia Etrusca stessa e della sua biblioteca. Il primo embrione del museo fu istituito nel 1727, quando alcuni membri dell'Accademia Etrusca donarono alcuni pezzi delle loro collezioni private. Il museo raccoglie oggi immensi tesori di epoca etrusca e romana, tra cui il celebre lampadario etrusco, e una sezione egizia con splendidi sarcofagi e arredi funerari. Una sezione medievale conserva poi importanti opere del pittore Luca Signorelli, e in una sezione moderna sono esposti alcuni capolavori di Gino Severini. Accanto al Palazzo Casali possiamo ammirare il Teatro Signorelli, di proprietà dell'Accademia degli Arditi. Costruito nel XIX secolo in stile neoclassico, è caratterizzato da una meravigliosa loggia a sette arcate. Il teatro viene utilizzato anche come sala convegni e ospita ogni anno il Tuscan Sun Festival. Inserendosi tra i due edifici e scendendo verso il Duomo, ci troviamo sulla destra Palazzo Vagnotti, ideato nel XVIII secolo come centro di studi teologici e di proprietà della cura Vescovile. Le sue splendide sale settecentesche ospitano ogni anno la rinomata Mostra del Mobile Antico, un evento imperdibile per gli appassionati di antiquariato e restauro.